Action Lord Vincent Lionheart, il vostro poeta pop rock, preferito. Cari amici e carissime amiche, tanti pollici in su a questo video. Mille critiche avvelenate, scaiate da gente che non vale assolutamente niente. Mi dà tanta più forza, coraggio e volontà di volare immensamente in un cielo ora tempestoso ma domani sorridente.